Ecco, qui siamo sempre sulla provinciale che conduce verso Tiglieto, ecco, tra l'altro messa proprio a filo strada che poi quando nevica, la prima nevicata abbondante, lo spartineve chiaramente la butta giù subito perché non è una recinzione che può tenere poi i pesi della neve. Ecco, vedete questa, qui siamo verso la piana dove c'è l'abazia, ecco questa è la rete, vedete, guardate. Questa è la rete di contenimento.